Buonasera, ben ritrovati con la nostra pagina sportiva. La neve dovrebbe far rinviare la trasferta di domenica con l'Union Villa Cassano del Varese, la cui vita è appesa a un filo. Sistemata solo l'avvertenza dell'ex preparatore dei portieri Oscar Verderame, rimangono da pagare ancora tutte le altre per un totale di 140.000 euro. Ma nel presidente uscente Claudio Benecchi, nel possibile acquirente Enrico Fadani, rilasciano dichiarazioni. La palla canestro Varese torna in campo già domani per l'anticipo con Trento. Ci sarà anche Jean Saloumou che sta meglio e si è ripreso dalla botta alla schiena presa mercoledì in FIBA Europe Cup contro Sassari. La Pro Patria si è impegnata nel posticipo di lunedì con la Juventus Under 23. La trasmissione bianco-blu in onda alle 23.10 di stasera propone un approfondimento sulla partita e offre un'interessante scheda su Nicolo Gucci, punto di forza della Pro. Eccovi un'anticipazione. Mister, ma secondo te ha senso fare un Under 23, una seconda squadra della Juventus, andando poi a prendere giocatori stranieri, andando a prendere giocatori che hanno già giocato in Serie B, andando a prendere e non curando i tuoi giocatori giovani? Ma è un controsenso, perché sinceramente dovrebbe prendere quelli ragazzi della primavera e fargli fare esperienza, come facevano delle società un po' di anni fa, si facevano andare i giocatori della primavera dalle grosse squadre, li facevano giocare per un anno in cipo e li ritornavano, le squadre di appartenenza. Se però una primavera, perché Costanos era della primavera della Juve, per ere della primavera della Juve, fosse in blocco, venuta tu del Favero, in blocco, a fare un campionato di C, sicuramente esperienza ne facevano molta di più. Sì, ma penso che lì la federazione si aspettava forse qualcosa di più, anche dalle altre società di Serie A. Lì forse è stata l'unica la Juventus e poi è andato tutto in... Infatti probabilmente sarà una cosa che... È andato tutto nel ridicolo. Ecco, e tra l'altro lo vediamo noi che con alcuni giovani delle primavere che abbiamo preso quest'anno, Lombardoni dall'Inter, Mora, che sta facendo un campionato incredibile, ma lo stesso Boffelli, che arrivano dall'Atalanta, stanno maturando e si vede che ogni partita dopo partita prendono anche confidenza. Per le bocce, una bella chiacchierata con il presidente nazionale De Santis. Petanc, Volo e Raffa, sono tre specialità delle nostre, delle bocce. Siamo anche molto spesso migliori nel mondo, perché siamo quelli che vincono molti più titoli. Avere a disposizione, avere la possibilità di poter entrare alle Olimpiadi vuol dire poter ambire anche a vincere titoli olimpici che non sarebbero da poco. Insomma, quando arriverà questo momento? Andare alle Olimpiadi per una federazione come la nostra è il massimo sotto tutti i punti di vista, ma non perché io sono un sostenitore dell'uguaglianza tra sport olimpici e sport non olimpici, quindi sappiate come io la penso, per me un campione del mondo equivale a un campione olimpico. Ci sono campioni olimpici che non hanno mai vinto il mondiale, campioni mondiali che non hanno mai vinto le Olimpiadi. Per vincere le Olimpiadi devi battere il mondo, per vincere i mondiali devi battere il mondo. Possono cambiare i criteri e soprattutto la visibilità. Quindi parto da questo presupposto tecnico-politico, questo è il mio pensiero, mi sono battuto col coni ed è stato molto condiviso, anche se stanno andando verso una divisione, ed è sbagliato. Però per noi sarebbe il massimo, per la visibilità, due aspetti. Visibilità fondamentale, tant'è che noi siamo una federazione paralimpica, non abbiamo le tre specialità, ne abbiamo quattro con le bocce, è la boccia che va alle Paralimpiadi, la quinta sarebbe bici e bocce, ma potremmo aggiungere tante altre sport tradizionali. Diciamo quattro specialità con la boccia. Noi siamo la federazione olimpica, andiamo alle Paralimpiadi, andare anche alle Olimpiadi. Quindi per norma dotati serve il massimo, per la visibilità e soprattutto per l'aspetto tecnico. Perché soprattutto, in modo particolare con la Raffa, insomma, siamo leader, quindi medaglie non sicure sicurissime, con il volo, medaglie sicure, con la petanche, probabilità di medaglia. Cosa ci manca per arrivare a Fiori? Per arrivare? Fino lì. Alle Olimpiadi? Sì. Allora, andare ad arrivare alle Olimpiadi non ci manca nulla a noi. Ci manca due cose, ci mancano. Ci manca un appoggio politico, perché è solo politica, è una politica sportiva, ma è una politica vera e propria. Io la posso chiamare anche lobby. Chiamatela come vi pare, perché poi ognuno la pensa in maniera diversa. Insomma, ci sono sport che piacciono alla maggior parte delle persone che non vanno alle Olimpiadi e sport che non piacciono, però stanno alle Olimpiadi. Sport che escono, sport che entrano. Quindi c'è tutta una dinamica di politica sportiva molto complicata. Quindi quello ci può mancare. La seconda cosa che può mancare, il resto abbiamo tutto, abbiamo tutte le componenti, perché il nostro è uno sport sano, straordinario, che merita le Olimpiadi. Non lo dico da Presidente, lo dicevo anche dal Segretario General del CIP, tant'è che la boccia vale i Paralimpiadi. Quello che manca è l'unità di età, quello che è sempre mancato a livello nazionale. Io sto cercando di dare un'identità nazionale a tutto il nostro movimento in Italia. Quello che manca è a livello internazionale che la RAFA ragiona in un modo, la PETA anche ragiona in un modo, il volo ragiona in un altro modo. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.